cari amici eccoci qua un grande saluto a tutti quanti voi io sono stefano bene meglio mi conoscete molti mi conoscono altri di meno ma c'è un annuncio importante che vi devo dare esattamente il 10 11 giugno c'è questo convegno che teniamo a roma presso il bernini bristol piazza barberini e crea il tuo miracolo quante volte noi abbiamo desiderato ottenere un miracolo allora cominciamo a dire perché andiamo a chiedere un miracolo perché riteniamo che ci troviamo di fronte a un danno irreparabile a una soluzione impossibile qualsiasi nostro disagio emotivo comportamentale qualsiasi nostro fallimento deve essere vinto superato ma è come se ci fosse un' attrazione che ci impedisce di sbloccarci abbattiamo il pensiero negativo potremmo dire va pensiero sulle ali dorate e questo è il miracolo che il nostro pensiero vada su ali dorate e non su sofferenze dolore vi ricordo con le discipline analogiche per le mediane all'appuntamento del 10 11 giugno venite anche impreparati e avrete modo di con le sperimentazioni che vedrete e valutare l'importanza della conoscenza delle discipline analogiche vi aspetto per il grande miracolo a tutti un abbraccio